Con la mancata approvazione da parte del Senato del riordino delle province, quale scenario si apre per la provincia spezzina? La situazione è abbastanza preoccupante perché nell'immaginario diffuso si pensa che tutto resti uguale e quindi se non hanno approvato l'accorpamento, quindi le province restano tutte. Si fa riferimento invece alla norma precedente approvata con la finanziaria, diciamo il Salva Italia del dicembre 2011 nel quale si diceva che le province erano svuotate di funzioni, erano enti di secondo grado e che tutte le funzioni le regioni avrebbero dovuto con propria legge trasferire ai comuni o a loro stesse. Quindi siamo normativamente in questa posizione e quindi è preoccupante perché è vero che le province ci sono ancora tutte, non ne sono state tagliate ma tutte le province, tutte, nessuna esclusa, sono state tolte tutte le funzioni secondo quella norma ad oggi vicente che dicevo è il Salva Italia del dicembre 2011. Mentre invece questo decreto era il percorso successivo, aveva ridato funzioni alle province, aveva detto sono meno, vanno accorpate, diventano 51, fra queste 51 c'era anche la spezia e il Parlamento deve convertire questo decreto. Rimaneva poi compito alle regioni di assegnare, decidere sulle proprie deleghe, non sulle funzioni fondamentali che erano già assegnate dallo Stato, scuola, viabilità eccetera. Quindi il tema è questo, siamo in una condizione preoccupante. E dal punto di vista finanziario? Dal punto di vista finanziario vale la stessa cosa, che in questo momento quindi le province che secondo questa norma sono senza funzioni, chissà in quale condizione sono. Oggi è necessario anche perché non siamo in grado, credi, in due settimane di fare nessuna legge regionale di trasferimento, nessuna legge di riattribuzione delle funzioni, è possibile, credo a mio avviso fare una cosa sola, che il Parlamento dovendo approvare la propria legge di stabilità, la propria finanziaria per il prossimo anno, ed è l'unico impegno che si è assunto a questo governo, dice approviamo altrimenti c'è una difficoltà non per le province ma per tutto lo Stato non approvare la finanziaria, quindi la legge di stabilità, bisogna che dentro questa legge di stabilità ci si scriva che le province gli si danno le risorse per il 2013 e gli si assegnano nuovamente le funzioni, non vedo altro scenario possibile. E quindi in questa fase transitoria le competenze? No, le competenze fino al 31 dicembre sono delle province tutte in mutato, bisogna appunto nella legge di stabilità che si andrà a definire che deve essere approvata dal Parlamento perché è la finanziaria dello Stato di fatto, quindi che si faccia un decreto che propone dentro quella legge di stabilità ciò che è coerente, rimandando poi l'accorpamento sia ripreso dal prossimo governo ma che si riassegnino per partire dal 1 gennaio, per mantenere il 1 gennaio, quindi un quadro di certezza, alle province si ridiano le competenze tutte e i finanziamenti per esercitarle.